Giornata di spotlight oggi, infatti oggi andremo a parlare di Sage, della carta nuova, andremo a parlare delle spot, andremo a vedere se conviene bullare e in qualche modo andremo a incastrare anche i series troppo che sono stati annunciati per il 4 giugno. Ah e vi ricordo che stasera sarò live 21.30, apriamo le vostre spot, apriamo le mie spot, c'ho tipo 3 chiavi da poter buttare e voglio le variante di questa spot perché penso che di questo mese sono le variante tipo più belle che si possono ottenere. E poi stasera andremo a farci una carrellata di mazzi con Sage, sperando che ci esce, altrimenti io prenderò un account vostro e in qualche modo io ve lo derubo. Quindi partiamo subito, andiamo a vedere un attimo e fare il punto della situazione. Allora, le spot che ci stanno attualmente sono queste qui, no? C'è Sage, carta nuova, c'è Legione e c'è il Tribunale Vivente. Ora, non sto qui a dirvi che ovviamente se vi mancano tutte le carte, ovviamente è normale che la carta nuova vi manca, ma se vi manca Legione e il Tribunale Vivente, questa è una spot da pullare assolutissimamente perché, a parte tutto che il Tribunale Vivente è una carta che d'ora è anche perché il mazzo del Tribunale Vivente, che, andiamo a vedere subito, solidi e soliti sono due. Ho questo qui con Invisible Woman che vai a scartare Modoc, che vai a scartare, che vai a giocare Ela e vai a ritornare in campo tutte queste bellissime carte e fai una specie di punti e sappiamo benissimo cosa ne pensiamo tutti di Ela. Ma, il mazzo che più preferisco con il Tribunale è il secondo, ed è questo qui. Ok, tralasciando il fatto che non ci deve essere Zabu perché è stato nerfato quindi non vede più il posto in questo mazzo, ok? La carta che rende quasi incontrabile questo mazzo è proprio Cosmo, capito? Perché se tu fai Cosmo nella stessa location in cui tu vuoi andare a fare la tua roba con Iron Man Slut e il Tribunale, tu rendi tutto molto più complicato per l'offo, capito? E quindi rendi le cose molto più facilitate. E a proposito del Tribunale Vivente, se voi non riuscite a pullarlo, ok? Se non avete abbastanza chiavi, se non vi preoccupate perché il 4 giugno ci saranno i series drop, ci saranno ben 7 carte da serie 5 passate a serie 4 finalmente e ben 5 carte da serie 4 a serie 3. Ok? Quindi il Tribunale è uno di queste, passa a serie 4 e si può prendere benissimo con 3000 token. Quindi non vi preoccupate se non riuscite a pullare il Tribunale. Secondo me questa mossa, a parte tutto se noi vogliamo, è la carta più forte che sta andando a essere droppata. Ok? Secondo me è stata fatta questa mossa per il semplice fatto di andare a rendere più fribile il mazzo del Tribunale Vivente a molti più giocatori. E diciamo che in grandini sono d'accordo. Poi la Gingray che passa a serie 4 ovviamente ci sta. Ovviamente anche Hercules, Selen, Gladiator, Nebula, Silk. Nebula ricordiamo anche che è carta del pass, capito? Quindi ci sta. Ah, le serie 3 ovviamente ci stanno, Martino non so perché era ancora serie 4, Eco, Item, World Attack. Sono tutte carte inutili, tranne il Silver Samurai. Penso che la carta più forte è il Silver Samurai di quelle serie 3. E ovviamente sì, 12 carte non sono abbastanza per la situazione dei drop attualmente di Marvel Snap. Ma è già un qualcosa, dai, è già un inizio, regà. Detto ciò passiamo all'altra carta, ovvero Legione. Legione non lo dovete sottoputare, regà, perché a me Legione da quando uscì io mi sono divertito come un matto a giocarla. A parte tutto che attualmente c'ha dei bei nazi, se vogliamo. A parte tutto che stiamo parlando di un Change Location che scomba con la Storm in una maniera assurda. E vi ricordo che sul turno 4 se noi facciamo Storm, turno 5 facciamo Legione, la Location è delirondato. Lui no, da tutti e tre i campi, il turno 6 tu non giochi nulla. Però è una combo molto occasionale, bisogna vedere anche come si comporta l'Hoppo in questi casi. E ovviamente l'altra combo più forte è andare a scammare il turno 7 con Legione della Magic, capito? Perché attualmente a molti mazzi serve il turno 7. Quindi in qualche modo se noi andiamo a scammare il turno 7 possiamo ben capire che gli facciamo un po' di danni all'Hoppo, no? E anticamente quando uscì si utilizzava con il buon vecchio Lockdown, Paggio dell'Anima Sua. Ma attualmente si gioca con la War Machine, con la macchina da guerra. Quindi se l'avete pullata pensateci a fare un mazzettino del genere. Anche perché un mazzo del genere ti permette di andare a giocare nelle location in cui tu non puoi andare a giocare assolutamente nulla. Magari un infinite out anche senza nessun prezzo, capito? Che tra l'altro penso che molti di voi ce l'avranno War Machine. Perché avevo molto hype questa carta. E mi è dispiaciuto tanto perché anche io pensavo fosse una carta veramente molto rotta. che potesse controllare anche il Profix. Però non ha brillato come credevamo tutti, ecco. E l'altro mazzettino in qualche modo goliartico, se vogliamo, è il Sera Control. Vi ricordate il Sera Control Tech che girava un paio di mesi fa e è sempre stato forte? Ok, questa è una variante con Baron Zemo. C'è Sentinella. Cazzo non lo vuole il Sentinella, tra l'altro. Anche questo è un mazzettino interessante. Non sottoludo alla regione. Poi stiamo parlando di una carta che ha una variant veramente bellissima. Dov'è? Dov'è? Dov'è la variant? Ne vogliamo parlare della variant, regà. La variant è bellissima. Io non so, se non mi esce veramente potrei improcrastinare qualsiasi roba. Perché è una delle variante più belle che ho mai visto nelle spot. Come anche quella del Tribunale Vivente. Sembra che tu gli dai uno schiaffo in bocca e prendi tutte le teste, capito? Fai strike. E invece ora tocca parlare di lei, della carta principale di quest spot. Della prima, una delle prime mutanti a essere scoperta dal Professor X. Una che nelle sue abilità ha come la percezione di avvertire il potere mutante altrui. Quindi in qualche modo è anche un po' l'ex, se vogliamo, dei mutanti. Stiamo parlando ovviamente di Tessa, in arte Sage. Cosa fa questa carta? E on Reveal, alla scoperta, prende più due di forza per ogni carta con forza differente, setta in quella location. Non nostra, ma anche quella dell'avversario. Quindi in entrambi i lati. Che tra l'altro in questo articolo di Zone ci può avere tipo tre mazzi per andare a utilizzare al meglio, al day one Sage, che non mi fanno impazzire. Come per esempio questa a me non fa impazzire. Non la vedo bene Sage qui. Poi si rivedrà tipo il mazzo tier 1 per eccellenza. Invece quest'altro con Ravonna, che è il perno di questo mazzo che va a scombare con la maggior parte delle carte, come Angela, Robbe, con Sage, con Wospen, con Green Goblin. Anche col Profix è molto interessante vedere Sage in questo mazzo. Però secondo me, se noi andiamo qui, andiamo a vedere i best deck di Sage. Andiamo a vedere che a parte tutto perché... Oh, un bounce! Carino il bounce! Carino il bounce! Ma ovviamente secondo me per le sinergie della carta, in qualche modo, a parte tutto con Silver Surfer, vabbè, ma non vuol dire che perché è una carta a tre, vuol dire che va bene nel Silver Surfer. Però qui ce lo mette anche col Mr. Negative, ok? È una delle carte principali con Sage, anche perché va a trovare posto Sage in un archetipo che non se lo caga a nessuno. Ovvero quello dell'Horrevial. Infatti io immagino tipo già una roba del genere, per esempio, ok? Orrevial con Wong, con Iron Man, con la White Tiger. Qui ci starebbe anche tipo Dino, tipo una roba del... Ok, abbiamo capito. Però un mazzo del genere con Mr. Negative non so quanto può intaccare nelle ladder, perché a parte tutto che il sottoscritto in pressione qui, Mr. Negative quando utilizza nelle ladder, prende gli schiaffi come se non ci fosse un domani. Ma anche in un Silver Surfer lo voglio provare stasera. Quindi dopo aver fatto il punto di risultazione per tutto quello che ne concerne della spot che andremo a vedere oggi, io vi posso dire una cosa. Se vi mancano ovviamente le carte, pullate. Se vi mancano tutte le carte. Se vi manca solamente Sage come il sottoscritto, io ho pure una chiavetta, gliela butterei. Anche perché io andrei a schippare proprio totalmente Namora. Come molti di voi, penso. Perché Namora, se a voi mancano queste due carte, posso dire Scarra non è così tanto impattante. Il Cavaliere sì, ma con dei mazzi con era attualmente. Il Discard me. Il Discard me. E Namora non sembra così tanto essere promettente, perché va a mettersi in dei mazzi che alla fin fine non sono così tanto worth. Poi, vediamo. Quindi il consiglio del buon Samaritano del Cup è andare a pullare in questo spot, e vi ricordo di andare a pullare tutti insieme questa sera alle 21.30 mani goldi. Anche perché se ci portiamo a casa anche una bella variantina, è molto bello, è anche molto considerevole andare a fare un mazzo tutto bello in variantina. Lo sapete quanto io ho la fobia di sta roba. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate di Sage, fatemi sapere cosa ne pensate di Series of Drop, e noi ci vediamo stasera. Bella data, ragazzi. Ciao.